L'ultimo capo mafia stragista tra i mandanti degli attentati contro i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, Matteo Messina Denaro, è stato arrestato dopo 30 anni di latitanza, grazie al lavoro portato avanti dai Carabinieri del Rosso coordinati dal procuratore di Palermo Maurizio De Lucia e dal procuratore aggiunto Paolo Guido. Arresto che ha suscitato grande soddisfazione tra gli organizzatori del premio nazionale Paolo Borsellino, che da anni lavora per sollecitare la società civile nella lotta alle mafie, promuovendo la legalità. Io credo che questo sia un momento per dichiarare il successo dello Stato, cioè nostro, dello Stato, di chi non si è reso, di chi ha continuato a cercare questa primula rossa, di questo vero boss, questo stragista, questo assassino, questa persona che è finalmente dietro delle sbarre e potrà pagare il suo debito con lo Stato e quindi con noi. Un arresto che rappresenta una grande vittoria dello Stato, che dimostra di non arrendersi di fronte alla mafia. Io credo che ci siano delle conseguenze positive per tutto il movimento antimafia, perché questo arresto dimostra che lo Stato, quindi noi, non ci siamo arresi e non intendiamo arrenderci in questa lotta contro la mafia e non intendiamo arrenderci quindi nella lotta contro tutte le mafie, a partire dall'Andrangheta, la pericolosissima mafia calabrese che però oramai è espansa in tutta Italia, in tutta Europa, in tutto il mondo. Credo che ci sia poi un altro fattore molto importante. Matteo Messina Denaro non è un boss come Riina e Provenzano, un ignorantone, ma è una persona che ha saputo muovere denaro, economia. E poi ancora un altro fatto molto importante, il fatto che lui è vero, è malato, è vero, ha un tumore, ma è vero anche che da dietro le sbarre difficilmente riuscirà a proseguire queste sue iniziative. E ancora un altro fatto molto importante, il fatto che comunque lo Stato ha dato un segnale. Quindi benvenuto questo arresto e festeggiamo per questo arresto. Ci saranno poi dei momenti per riflettere.